sabato 5 agosto un caro saluto a tutti voi amici del canale youtube rieccoci con un nuovo contributo con un nuovo video come sempre vi ringrazio per le tante iscrizioni che stanno arrivando in questo periodo e sono davvero molto felice ma il merito è sempre ed esclusivamente vostro cominciamo questo video con diverse notizie di calciomercato che riguarda sia del chetelare quindi mercato in uscita ma anche attenzione ad un possibile altro acquisto del milano ne parliamo all'interno di questo contributo video ieri è stato ufficializzato musa maglia numero 80 maglia che fu di ronaldinho tra l'altro anche nella sua intervista dice insomma è stato un campione straordinario quindi maglia 80 che verrà indossata da musa contratto fino al 2028 giocatore sempre felice sorridente lo ha detto anche nella sua intervista detto tanto che ho sorriso che mi fa male la mascella insomma a sorridere sempre questo perché è felice davvero felice di indossare la maglia rossonera e sapete che serve gente motivata serve gente convinta di indossare la maglia del mian e musa lo è sicuramente c'è un dato molto particolare che fa pensare a far riflettere perché parliamo di un giovane di 20 anni che però pensate ha già accumulato 94 presenze nella liga spagnola un giovane con 94 presenze nella liga spagnola vuol dire che ha già tanta esperienza se a questo ci aggiungiamo il il suo girovagare tra l'inghilterra l'america l'italia la spagna il ritorno ora in italia a tutto a 20 anni vuol dire che comunque un ragazzo diverso dagli altri perché ha un bagaglio culturale di vita e di esperienza diverso il dato particolare riguarda appunto le sue presenze secondo tra l'altro dato fornito dal dal collega giuseppe pastore dice che a 20 anni e mezzo musa ha già collezionato 94 presenze nella liga spagnola con il valencia a quell'età quindi 20 anni e mezzo solo otto giocatori avevano giocato 94 partite in serie a quindi già entra in un'elite a quell'età e quali sono questi otto giocatori donnarumma rivera piola colaussi mancini corso nereo rocco e paolo maldini quindi musa ha un dato estremamente particolare incredibile se ci pensiamo 20 anni e mezzo già 94 partite in spagna in italia solo otto giocatori hanno avuto questa esperienza vedremo c'è tanta curiosità attorno a questo giovane centrocampista che nasce sicuramente come mezzala preferibilmente a destra però può essere schierato anche in un centrocampo a due davanti alla difesa e credo che con le sue capacità con le sue doti comunque ancora molto giovane può sicuramente essere utilizzato anche un centrocampo a tre magari bisogna lavorarci a proposito di lavoro il milano nella giornata di domani 6 agosto domenica comincerà a lavorare a milanello dopo questi giorni di pausa di sosta che ha osservato la squadra dopo la tournée americana quindi da domani pomeriggio si riprende con il lavoro a milanello per preparare la prossima amichevole quella dell'otto di agosto contro il monza a monza per il trofeo silvio berlusconi naturalmente saremo lì a vederla dal vivo dallo stadio del del monza per avvicinarci sempre di più all'inizio della della serie a dicevamo all'inizio di questo video parliamo di calcio mercato perché in molti ora dicono bene sono arrivati otto acquisti ma il milan cosa farà sul mercato innanzitutto come abbiamo detto anche nel video di ieri si proietterà sulle cessioni e quella più calda è proprio quella di decetelare ma attenzione anche agli altri acquisti perché il mercato del milan potrebbe non fermarsi qua il centrocampo è possibile che il milan faccia qualche altro movimento a centrocampo in base anche a quello che succede agli attuali interpreti di questo centrocampo mi riferisco soprattutto a crunic perché il fenerbace sembra proprio che non si è arreso per per arrivare a rade crunic come sappiamo ha formulato un'offerta molto importante dal punto di vista economico al giocatore offerta che ha fatto vacillare parecchio crunic il giocatore avrebbe già un accordo di massima con la squadra turca resta però da convincere il milan il milan al momento non vorrebbe vendere crunic ma attenzione perché se il fenerbace dovesse alzare la proposta economica arrivare magari attorno ai 10 milioni qualcosina in più magari inserendo i bonus e contestualmente crunic chiedere la cessione spingere per andare via perché per lui a 30 anni è comunque un'opportunità guadagnare due tre volte quello che percepisce al milan a livello economico e a quel punto si potrebbe aprire davvero un varco per un altro rinforzo a centrocampo il milan potrebbe sfruttare l'incasso di crunic per fare un altro acquisto magari andare a prendere un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto a musa rispetto a reinders rispetto all'off to chic lo stesso pobega che sono un po tutte mezzali no servirebbe uno più alla benasser uno più regista tra l'altro avete visto le immagini sui social di benasser che si allena prova ad accelerare i tempi per il suo rientro ma più o meno resta sempre quello di inizio 2024 massimo fine 2023 inizio 2024 quindi servono ancora diversi mesi per benasser quindi attenzione a un altro acquisto a centrocampo si può fare solamente quando vanno poi ad incastrarsi diversi tasselli del puzzle se esce crunic il milan prende un altro centrocampista l'idea è questa e credo che al milan non si facciano trovare impreparati quindi stanno già sondando il terreno per un eventuale altro centrocampista visto che comunque il fenerbahce non molla la pista crunic non molla l'idea di portare in turchia crunic chiudiamo con le ore di decetelare perché sta decidendo sta scegliendo la sua destinazione il milan è già d'accordo con l'atalanta 3 milioni di prestito 23 diritto di riscatto in ingaggio interamente pagato dall'atalanta clausola che non c'è del contro riscatto a favore del milan ma c'è una percentuale del 10 per cento a favore dei rossoneri sulla futura rivendita di decetelare il giocatore sta parlando in queste ore con il suo entourage con la famiglia ma anche con gasperini c'è stata questa telefonata le parti sono sostanzialmente d'accordo il sì definitivo arriverà credo nelle nelle prossime ore quindi sono proprio le ore decisive atalanta che comunque oltre a decetelare ha preso anche lo stesso scamacca soffiandolo all'inter beffando l'inter quindi atalanta che sul mercato ora insomma vuole assestare dei colpi interessanti e tra questi c'è appunto il giocatore del milan a decetelare che arriverà in prestito ripeto sembra orientato verso il sì il giocatore dovrebbe dire sì quindi aspettiamo la sua decisione finale per dire che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'atalanta però tutto porta a pensare che decetelare accetterà la proposta atalantina la proposta bergamasca a proposito sempre su decetelare il milan comunque ci ha provato fino alla fine alla fine tra l'anno scorso e la tournée americana e anche segnali che non sono arrivati con la maglia della nazionale alla fine ha deciso di cedere in prestito il giocatore anche perché non sono arrivate altre proposte dal punto di vista proprio della formula no non sono arrivate proposte a titolo definitivo o proposte con obbligo di riscatto oppure se sono arrivate sono talmente basse le cifre da non permettere almeno di rientrare dalla spesa della scorsa stagione quando aveva investito 32 milioni più 3 di bonus per un totale di 35 milioni di euro per prenderlo dal bruge vi ricordate la lunga telenovela dell'estate scorsa con maldini e massara che per due mesi hanno insistito col bruge fino a prendere charles de ketelare ci vediamo nel pomeriggio con altre novità altri aggiornamenti come sempre se vi va mettete like attivate la campanella e iscrivetevi al canale ciao